Vi auguro una serena notte. Il messaggio di questa sera è prenditi una pausa dal mondo esterno. La pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra e senza averla resa fertile. Fanno germogliare il grano perché dia i semi all'agricoltura e pane da mangiare. Così sarà dalla parola che esce dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza affetto, senza aver realizzato ciò che voglio e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. I mesi invernali sono un periodo di ritiro e di letargo per gli animali, uccelli, fiori, piante e alberi. È probabile che da bambino nel periodo natalizio andassi in vacanza. Ora che sei adulto hai ancora bisogno di rallentare i tuoi ritmi durante l'inverno, quando le giornate si accorciano e il clima diventa più rigido. È interessante notare che mentre riposiamo svolgiamo un lavoro molto importante, rigenerandoci e rafforzandoci. Può essere un momento che dedichiamo a riflettere sul nostro cammino, a nuove idee e nuovi progetti. La natura stessa si comporta così in inverno, quando sottoterra brulica ancora la vita, perché le radici degli alberi traggono un nutrimento dal ricco terreno. È un letargo e un ritiro da una crescita verso l'esterno, in favore di uno sviluppo e di una rigenerazione interiore. Puoi prenderti un periodo di distacco dal mondo esterno, in ogni momento dell'anno, non solo d'inverno. È sempre importante concedersi una pausa e trovare un contatto profondo con noi stessi. La preghiera è un modo meraviglioso di ricaricare le batterie. Prega perché la luce ti sostenga, ti conforti e ti sia d'ispirazione per trovare idee creative che ti permettono di riposare e rigenerarti. Questo è il messaggio dalla buonanotte.